È un onore e un vero orgoglio poter festeggiare questi 50 anni della Moserma di Vigili del Fuoco all'interno del Comune di Montevarchi, ma naturalmente a disposizione di tutta la nostra vallata. Non è una cosa da poco, non è scontato poter avere una Moserma di Vigili del Fuoco proprio sul territorio perché capite bene che gli interventi che lo fanno, che si basano sull'intestinità, ci permettono quindi di dare un servizio nei tempi di emergenza massimo, cosa che non sarebbe stata possibile se non ci fosse stata questa caserma negli ultimi 50 anni se i Vigili del Fuoco fossero dovuti arrivare dall'inizio da altre parti. Quindi questa è stata una garanzia e continuerà ad essere un angolo per sempre, non solo per la nostra città ma per valdare il futuro. E vi voglio ringraziare perché noi diversi cittadini molto spesso non ci rendiamo conto o solo in casi straordinari ci rendiamo conto del lavoro che loro fanno ma che fanno in silenzio costantemente tutto l'anno nella normalità e poi ancora di più negli eventi straordinari. Loro ci sono sempre in silenzio con una protezione di capo, di un impegno e anche con un rischio per la propria vita molto alto ma non mancano mai. E questo per noi è stata una garanzia degli ultimi 50 anni e lo sarà anche per i posti di 50. Avremo tutti preferito fare una festa e condividerla con tutti i cittadini, con tutte le ballate, l'importanza appunto di un presidio sui nostri territori. Tutto la situazione emergenziale legata al Covid non lo permette, però ci sembrava giusto, anche se in maniera più ristretta, celebrare questa data, proprio perché poi i nostri cittadini sappiano che è un'occasione importante per i nostri territori. Io vi ringrazio tutti, vi ringrazio perché il senso di sacrificio, l'impegno e il rischio, come ho detto, anche della vita, che mi mettono in piena mente da anni, non dobbiamo mai dare questo contato. Ringrazio loro per la loro disponibilità, per essere sempre pronti a tendere una mano, sia come aiuti in caso di protezione civile, sia per l'ordinario che per lo straordinario. E poi una vicinanza a tutte le vittime, cioè a tutti coloro che hanno perso la vita negli anni proprio facendo il loro mestiere, quindi hanno perso la vita per noi e per tutte le loro famiglie, perché le loro famiglie sanno che hanno a che fare con i mariti, i figli, con i niposi, che fanno qualcosa di importante per tutta la cittadinanza e per il paese intero. Quindi un ringraziamento di fuori a loro, gli ringrazio per quello che hanno fatto negli ultimi 50 anni e per quello che continueranno a fare in tutte le situazioni anche nell'ordinario e nell'ordinario.